e felpe della santa cruz appena arrivato al negozio street mentali 2013 bellissima questa è la madonna di santa cruz no questa è la madonna di guadalupe madonna di guadalupe jason c'è anche la bandana quindi c'è anche un settore street dedicato anche su diciamo potremmo dire su religioso un significato religioso di protezione appunto nella strada dove c'è molti sono molti pericoli stupenda la madonna protegge i ragazzi questo è santa cruz appunto vediamo una mano che ha la bocca e che regge in mano che cosa era per tatuare bellissimo ecco qui l'altra linea prega per me santa cruz bellissima carina molto belle lo stile poi abbiamo una linea sempre della santa cruz che è inerente al poker perché abbiamo anche le carte le carte sempre con la madonna di guadalupe anche le carte vediamo con la madonna di guadalupe e i grinder per chi fuma marco io con te sto scoprendo questo questo non è un mondo è un universo veramente sono serio non ti sto prendendo in giro lo sai no io scherzo sempre ma in questo caso mi sto commuovendo perché veramente sto scoprendo una forma d'arte che ignoravo e che ignorano tantissimi no ecco quindi la forma d'arte dello street che va anche per esempio su queste magliette e tutti questi gadget connessi all'abbigliamento giovanile e di livello eh no abbigliamento cinese o così insomma con rispetto anche per la cina per l'amor di dio però e poi abbiamo gli ultimi due costumi sempre della santa cruz quindi più che streetwear più che streetwear io parlerei oltre che di streetwear di street art no di eccoli tutto ciò guarda questo è il costume modello di munda della santa cruz e la santa cruz si costume bellissimo e poi abbiamo quella ripresa e anche la ripresa della mano della mano si della mano e quello del cicano con la madonna di patarube che è stupendo questo è bello secondo me il più bello certo c'è la madonna qui bello anche questo con la tasca vedete carina a me piace molto questo qua eh questo nero piuttosto che quello là così poi ovviamente si va sui gusti sul... ottima qualità personali ok quindi un saluto ciao a tutti ciao 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 ciao